benedizione pasquale negata il caso di una scuola di monte grimano terme mira il fiore un episodio di molestie non frena il riscatto del parco ferrovia l'arretramento di pesero potrebbe essere soppiantato dal raddoppio dell'adriatica da pasquetta la settimana da capitale della cultura di monte calvo in foglia sport visse sempre più in crisi sabato da dentro fuori per vl e megabox buona serata a tutti voi amiche amici di rossini tv ben ritrovati al nostro spazio informativo serale di rossini news telegiornali di venerdì 29 marzo venerdì santo di pasqua accompagnato da un discusso caso fra culto e laicità scolastica del nostro territorio provinciale infatti l'istituto comprensivo raffaello che comprende i territori di monte grimano terme mercatino conche monte cerignone il dirigente scolastico flavio bosio avrebbe negato l'ingresso del parroco don giorgio all'interno degli istituti in nome della laicità della scuola il gesto ha creato un caso diplomatico con il sindaco di monte grimano terme elia rossi che ha giudicato inaccettabile il divieto e impugnato la situazione con un'ordinanza comunale che porterà a recuperare la benedizione mercoledì alla riapertura delle scuole il caso è salito alla ribalta nazionale visto che il deputato marchigiano di forza italia francesco battistoni ha presentato anche un'interrogazione urgente al ministro valditara dall'entroterra a pesaro perché c'è stato un caso di denuncia per molestie sessuali ieri in seguito a un episodio avvenuto ai danni di una donna che lavora al punto ristoro utopia interno al parco miralfiore episodio che ha generato sdegno al cospetto di un parco per il quale si sta facendo tanto in termini di vitalità ma che ancora bisogna di un salto di qualità in termini di sicurezza un 31enne di origine marocchina è stato denunciato per violenza sessuale dopo aver molestato giovedì mattina una 51enne tutor sociale operante all'interno del locale utopia bar trattoria che dallo scorso gennaio è diventato il punto di ristoro all'interno del parco miralfiore coordinato dal progetto inclusivo della onlus gulliver l'uomo già noto alle forze dell'ordine si sarebbe presentato alle 7 di mattina nel bar e dopo aver ordinato un cappuccino al bancone ha seguito la donna in questione nel locale dispensa prima palpandola e poi esternando il suo desiderio di consumare un rapporto sessuale davanti agli altri dipendenti allibiti alla minaccia di chiamare le forze dell'ordine l'uomo se n'è andato ma la polizia una volta allertata ha riconosciuto il soggetto e l'ha portato prima in questura per la denuncia poi al ricovero nel reparto psichiatria per la onlus gulliver un episodio amaro che mostra quanto nonostante gli sforzi già profusi serva ancora qualcosa di più per la sicurezza del parco si sta facendo tanto con l'amministrazione con le forze loro ma purtroppo ancora non basta chiediamo più impegno chiediamo più attenzione un presidio fisso a miralfiore purtroppo ieri mattina un episodio orrendo che ha ferito tutta quanta la comunità della gulliver di utopia un episodio bruttissimo ringraziamo ancora forze dell'ordine che nel giro dei 20 minuti hanno subito arrestato il personaggio e sono venuti qua e ci hanno rassicurato e poi abbiamo fatto denuncia in questura e fortunatamente adesso il personaggio è rinchiuso c'è l'impegno della onlus gulliver a tenere il parco vivo anche in un periodo magari meno abituale si è cominciato già a gennaio con il progetto utopia c'è anche l'intenzione del comune che vi spalleggia in questa operazione però non bisogna abbassare la guardia questo rimane un luogo sensibile nella zona più delicata vicino alla stazione vicino al monumento della resistenza tutti i luoghi più attenzionati e quindi per farlo vivere bisogna anche metterlo nelle condizioni di farlo vivere si il parco si è molto ripulito e il nostro gruppo tiene vivo il parco tutti i giorni alla mattina alle 7 fino alla sera anche oltre alla mezzanotte lo puliamo, giriamo, segnaliamo episodi c'è rimasta solamente una piccola zona del parco vicino via Cemmarosa che è un punto buio nascosto quindi chiediamo con forza al comune che venga totalmente pulito e chiediamo attenzione continua perché lo stiamo ripulendo, stiamo vincendo ma dobbiamo fare tutti insieme uno sforzo ulteriore per cacciare via tutti, tutte le persone che non devono essere qui anche perché si rischia di creare una percezione spesso anche sbagliata che il parco sia pericoloso quando di fatto non lo è ha degli elementi delicati da attenzionare ma di fatto è un parco vivibile, un parco per tutti noi siamo qui, vedete il parco è pulito, il parco è vissuto dalle persone e lo presidiamo purtroppo è solo la mattina presto dove ancora non c'erano presente io non c'erano presente altre persone fisicamente che potevano impedire l'accaduto terremo sempre attenzione, il parco ripeto è vivibile, è fruibile dalle famiglie quindi non facciamo nessuna polemica politica o altro il parco sta funzionando ma abbiamo bisogno di un ulteriore passo subito da oggi e da domani di pulizia, di presidio costante e torniamo a parlare dell'arretramento della ferrovia tra Pesaro e Fano per la quale ci sono finanziamenti già stanziati dal Ministero dei Trasporti ma è un progetto che rischia di essere sorpassato da una più ampia opera faraonica che sta emergendo sui tavoli di governo e quanto emerso ieri nel confronto in regione fra il governatore Acquaroli il vice ministro Bignami e il direttore di RFI Strisciuglio sul tavolo governativo ci sarebbe infatti un progetto da 60 miliardi un terzo dei quali per le marche e per l'alta velocità sull'intera linea adriatica un progetto complessivo che al momento metterebbe in stand by i bypass previsti per i soli territori di Pesaro e Fano ed ora torniamo sulla città di Pesaro lo facciamo con lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni parliamo oggi di dissesti stradali che necessitano di asfaltature sempre più urgenti mentre anche in questo mese di marzo prosegue il piano di manutenzioni stradali del comune di Pesaro resta lunga la lista di strade colabrodo minate da pericolose buche e dissesti non mancano infatti i telespettatori di Rossini TV che segnalano lo stato sempre più degradante in cui versa la zona industriale pesarese di via Lombardia e via Toscana strade che diventano uno slalom ad ostacoli fra pericolose voragini non aiutate dal transito costante di mezzi anche pesanti in una zona densamente popolata di aziende così come di palestre del mercato ortofrutticolo della Coldiretti e dello stesso auditorium di Marche Multiservizi al di là del degrado resta alto anche il pericolo soprattutto per il ciclomotore e il loro annesso rischio caduta rischio emblematico quando le crepe spuntano dopo un angolo cieco in piena curva segnalazioni che dunque vogliono sollecitare un intervento di manutenzione preventivo a danni o incidenti segnalazioni che ricordiamo potete indicare al numero whatsapp dedicato di Rossini TV 370-366-7210 è partito oggi un lungo weekend pasquale nella capitale della cultura fra aperture e mostre da oggi fino a Pasquetta ci saranno infatti quattro giorni di apertura continuata ai musei civici Casa Rossini Museo Nazionale Rossini Museo Diocesano Centro Artivisive Pescheria Palazzo Ciacchi Museo Archeologico Oliveriano Museo della Bicicletta e aree archeologiche di Via dell'Ambondanza e di Colombarone sabato sono invece previste visite guidate a Palazzo Ducale domenica e lunedì visite al Museo Officine Benelli e restando in tema di capitale della cultura si conclude nella domenica di Pasqua la settimana da capitale di Gabicce Mare proprio in questo contesto il gruppo albergatore multiservizi ha presentato il ricco calendario di appuntamenti del periodo di primavera e estate cominciato proprio oggi con il via alla settimana ciclo turistica di Gabicce la settimana da capitale della cultura di Gabicce Mare si intersega con la 42esima settimana ciclo turistica internazionale che nel venerdì di Pasqua ha acceso il semaforo verde sui tanti eventi di primavera e estate promossi dalla GAM gruppo albergatori multiservizi di Gabicce assieme a Covcommercio Marche Nord eventi presentati all'Hotel San Marco è nata, ha superato tutte le crisi immaginabili del Covid e le guerre e quant'altro comunque sebbene che quest'anno viene molto molto presto i ciclisti ci sono ancora anche un bel numero anzi non speravamo nemmeno dovuto al fatto che venga in marzo la Pasqua è veramente molto precoce poi noi proseguiamo con le MG storiche che vengono nel mese di maggio dal 22 la settimana dell'MG che anche questa si è ricordata dal 1982 si faceva ogni due anni prima adesso si fa ogni anno la stagione inizia tradizionalmente con la settimana ciclo turistica di Pasqua un evento che è molto importante perché segna veramente l'inizio della stagione turistica sia questo che poi l'evento di maggio dedicato al raduno delle auto MG e delle auto anche di altre marche insomma sono legate da un comune obiettivo che è quello non solo di portare gente turisti negli alberghi ma di far conoscere il territorio e quindi ogni giorno sia nella ciclo turistica che nel raduno di auto si va a conoscere una parte del territorio provinciale e quasi interamente nei comuni che fanno parte dell'itinerario della bellezza poi seguirà il raduno Ferrari che è sempre nella settimana dell'MG e anche questo dura meno perché dura solo un paio di giorni però è molto importante perché questo è il primo raduno Ferrari che faremo e se prenderà piede sicuramente speriamo di arrivare a 42 che con le Ferrari dalle bici ai motori fino al calcio col torneo gentleman dal 6 al 9 giugno è un calcio amatoriale over 50 le squadre al momento sono italiane ma puntiamo al mercato americano prossimo anno quindi avremo qua anche le squadre americane quarto evento ma sono eventi riguarda una grande serata legata al mondo della musica la chiamiamo festa dell'albergatore ma poi in realtà proponiamo al pubblico una bellissima band molto importante per conquistarle e affascinarlo ma il mondo della musica è un'altra di quelle passioni che noi abbiamo nel sangue che si aggiunge al programma di ConfCommercio che quest'anno riproporrà la non edizione di turismo in festa nei mesi di luglio e agosto quindi otto serate con musica con concerti di grande livello la bellezza di quest'anno e della nostra idea e della nostra passione è quella di collegare Gabi Cemara a Pesaro 2024 cosa significa? significa che noi organizzeremo delle settimane in tour durante l'estate accompagneremo quindi turisti in navetta pubblicizzando l'evento con il Publifono perché noi abbiamo anche il servizio del Publifono sulla spiaggia e quindi li attireremo in escursione per una settimana nell'entroterra e cercheremo di costruire tre belle settimane da Pasqua a Pasquetta la settimana cicloturistica passerà il testimone di Capitale della Cultura da Gabice Mare a Monte Calvo in Foglia appunto dal lunedì primo aprile il progetto 50x50 Capitale al Quadrato di Pesaro 2024 varca la soglia di aprile e lo fa con un passaggio di testimone quello da Gabice Mare che traghetterà il progetto fino a Pasqua quello che di Monte Calvo in Foglia che lo riavvierà da Pasquetta apriremo la settimana la nostra settimana della cultura con il passaggio del testimone con la cicloturistica di Gabice Gabice termina la sua settimana il 31 marzo il primo aprile sarà alle ore 11 all'interno del borgo di Monte Calvo per il passaggio del testimone e riceveranno un'accoglienza con degustazioni di piatti tipici da parte della Proloco l'arte del territorio sarà elemento fondante della settimana da capitale di Monte Calvo avremo due mostre una a Cagallo dal maestro Giulio Serafini che avrà in esposizione delle opere di arte calcografa che nella sua attività sono state commissionate da artisti importanti marchigiani poi abbiamo nel capoluogo a Monte Calvo in foglia proprio Monte Calvo all'interno del borgo un'altra mostra del maestro Giancarlo Sardella inoltre in località Casino Sole verrà aperta la casa del giornalista Gian Battista Vicari Busetto un noto giornalista che ha diretto un caffè letterario il giornale letterario che si chiama Il Caffè non solo luoghi della cultura tradizionale ma anche ristoranti o attività che diventeranno teatri musicali o salotti di presentazione di libri abbiamo coinvolto anche tutti i nostri esercizi commerciali e turistici che si sono trasformati in palcoscenico per ospitare quegli eventi che magari andavano fatti in un teatro verranno diciamo avverranno all'interno di questi locali non ultima la spiccata vocazione naturalistica del territorio di Monte Calvo con agriturismo e osi la badia e caverginia bike hotel attori protagonisti di escursioni e passeggiate ecologiche siamo molto felici di come Monte Calvo ha interpretato questa settimana la capitale perché integra la perfezione quello che è il programma la capitale che si svolgerà a Pesaro in quella settimana in puro spirito 50 per 50 viene riproposta anche in due appuntamenti il Cosa C'è DOP che sono questi aperitivi in due locali del comune in cui osterie e bar diventano anche avamposti di informazione rispetto a quello che accade nella capitale in particolar modo Monte Calvo con la settimana ma in generale e soprattutto attraverso dopo gli altri prodotti certificati della nostra filiera agroalimentare ci sarà la possibilità di fare aperitivi alternativi e soprattutto accorciare quella filiera di consumo tra gli agricoltori produttori e il pubblico grazie anche all'apporto dei bar e dell'osteria ed ora vi mostriamo nuovi spazi dedicati ai camperisti quelli inaugurati proprio ieri a Montecchio di Vallefoglia Abbiamo inaugurato un'area diciamo a disposizione dei camperisti che è un'area ecologica perché possono scaricare diciamo qui in un luogo nato a post per dare una risposta a tanti che vanno oggi con il camper in un'area strategica perché è lungo la Vallata del Foglia che ha circa 200.000 abitanti da Pesaro e il Fortalisauro ed è anche diciamo una risposta dal punto di vista ambientale perché normalmente se no i camperisti dove non ci sono aree di questo genere scaricavano nelle fognature con problemi anche dal punto di vista igienico e sanitario quindi è un'operazione diciamo che dà una risposta dal punto di vista turistico ambientale ed è anche una diciamo una risposta all'organizzazione dei camperisti che il comune ha messo a disposizione anche la sede qui nell'area della Tamoil di proprietà del comune di Vallefoglia e quindi era un'altra necessità più volte sollecitata e che finalmente oggi inauguriamo e concludiamo con lo sport ieri sera si è toccato il punto più basso della stagione della Vispesero uscita sconfitta e contestata dai tifosi dal match prepasquale dello stadio Benelli contro la Lucchese la Vis ha perso 3-1 in casa con i toscani illusorio il vantaggio su punizione di Di Paola a cui è seguito il pari toscano nel primo tempo e un disarmante secondo tempo di Biancorossi che hanno subito altri due gol nonché la quarta sconfitta consecutiva a corredo di una crisi sempre più nera con appena un punto nelle ultime sette gare aspettando le altre partite di domani la Vis rischia di ritrovarsi a Pasqua da terz'ultima e sarà letteralmente un sabato da dentro o fuori invece per la Megabox Vallefoglia che dopo aver perso l'andata del primo turno playoff per 3-1 in casa della Savino del Bene Scandicci prova a ribaltare le sorti nella gara del match di ritorno di domani al Palamegabox senza appello anche la partita della VL che priva di Totè infortunato fino a fine stagione è chiamata la trasferta di Treviso domani con la Nutribullet punto di riferimento per la salvezza dei pesaresi che dista 4 punti va da sé che un'altra sconfitta pregiudicherebbe ogni speranza e dopo la sosta torna in campo domani alle 16 anche l'Ital Service che sarà a Mantua per costruire un altro passo d'avvicinamento ai playoff della massima serie di calcio 5 e si conclude qui il nostro telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare da quello che arriva subito dopo il TG alle 20 la nostra striscia periodica del magazine Natura della Cultura tutti lunedì mercoledì e venerdì gli approfondimenti sui tanti temi di Pesaro 20-24 in tre fasce orare 8-13 e appunto alle 20 vi ricordiamo però che anche domani e domenica c'è il riassunto delle tre puntate settimanali domani alle 12 alle 19 e domenica alle 15 e alle 21 e poi prima serata dedicata a un altro tema di Capitale della Cultura lo spettacolo Spark che è andato in scena lo scorso weekend al Parco Miralfiore il cosiddetto spettacolo delle luce che vi mostreremo in questo speciale dedicato a seguire alle 21 e 30 altro tema di Capitale della Cultura quello del Festival degli Sguardi ovvero la settimana da Capitale di Gabicce Maremonte settimana che è tuttora in corso e che durerà fino alla domenica di Pasqua e poi ancora l'appuntamento fisso del sabato mattina con la rassegna stampa dei quotidiani locali Buongiorno Rossini come sempre in diretta dalle 7.20 a tenervi compagnia domattina ci sarà il nostro Marco Cadentu e dunque appuntamento a domani con le ultime notizie del sabato mattina le ultime anche di questo mese di marzo si conclude qui Rossini News intanto vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata e una buona Pasqua in compagnia dei nostri programmi e vi auguro e vi auguro di serata